Intanto Ginevra spiega cosa dobbiamo fare. Ciao! Ciao! Siamo ritornati. Allora, abbiamo deciso di fare il Glitter Slime Unicarno. Ok, la prima cosa che dobbiamo fare è misurare nel bicchiere graduato 30 ml di colla. Aperi chi non... Ah no, sì, riesco. Con delicatezza ha aperto la colla. Molta delicatezza! Per fare un video come si deve ci vogliono due operatori e uno che riprende con la telecamera. 30 ml, fare attenzione alle quantità. Abbassati che non riesco a riprendere. Giù, giù, giù sul tavolo. Intanto se ne metti di più poi la riversi dentro. Attenzione a non sbriciolare. E no, sbriciolare, scusate, ho sbagliato. Non sgocciolare. Rimettere il coperchio. Ginni, stai attenta che non deve cadere niente, eh. Brava, metti lì il coperchio, perfetto. E lo chiudo anche a vite. Aggiungi una spatolina di colorante in polvere. Me la tieni tu. Dunque, adesso abbiamo aggiunto una spatolina di colorante turchese. Adesso aggiungiamo quattro pipette di attivatore. liquido per le luci. Fatto? Sì, basta. È piena. Una. Se Ginevra la spruzza di là. Non la pucciare dentro, eh. Tienila in alto. Così. Ok, fatto. Basta, basta. Dalla, Ricky. Se Ginevra la spruzza dentro, Ricky la tira un po' su, eh. Vai. Spruzza. Eh. Ok. Due. Tre. Quattro. No. Tre. Tre. E quattro. E quattro. E quattro. Controllate di spruzzarla giusta. Sì. Ok. Adesso mescoliamo con la spatolina. È duro? Tienilo forte con una mano, eh. È una consistenza stradissima. Tipo? No. Va bene, tieni. Sì. È vero. Ok. È tutto appiccicato alla spatolina. Eh sì. Perché è una consistenza strada. È anche molto dura. Si sta trasformando lo slime. Sì, sì. È molto azzurro. Azzurro bianco. Vai, continua a mescolare. Quando ti stufi, mescola Ricky. Non fare forte perché sennò esce tutto. Si formeranno dei filetti. Perché? Perché inizia a appiccicarsi. È filamentoso, guarda. È filamentoso. Tutto bellissimo con questi filetti. Poi va fatto riposare per 15 minuti. Quindi poi noi finisce di mescolare Ricky. Vai, mescola bene. Si chiude, si lascia riposare. Domani facciamo gli altri slime. Ma come? Eh sì, sì. Perché va fatto riposare. È ora di andare a nanna. Quindi diamo la buonanotte ai nostri fan. Buonanotte. Buonanotte. Se vi è piaciuto mettete mi piace. Ah, e se non avete capito qualcosa scrivetelo. Esatto, scrivetelo nei commenti. E se vi è piaciuto mettete un pollicione. Se vi è piaciuto mettete un pollicione. Ciao. E poi volevo aggiungere un'altra cosa. Iscrivetevi al nostro canale. Sì, come si chiama? Raffaraffa. Ma come Raffaraffa? Si chiama Raffaraffa. Va bene. Poi i nostri fan ci diranno come dovremo chiamare il nostro canale. Ok. Iscrivetevi a Raffaraffa. Domani vi faremo vedere la fine del glitter slime unicarno. Perché adesso va riposato per 15... No, per quanti? Sì, sì. 15. 15, sì. Deve riposare per 15 minuti, esatto. E quindi noi andiamo nanna. Ciao, buonanotte. Ci vediamo domani con un nuovo slime. Buonanotte. Ciao, Rikki. Ciao. 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 Ciao.